Musica Amici di Atisport 24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla noto vista da vicino Andiamo oggi nuovamente in casa della Waterpolo Palermo e per occuparci delle vicende della formazione siciliana è con noi il giovanissimo portiere della truppa allenata da Paolo Malara Gaetano Reina Ciao Gaetano, benvenuto Grazie di aver accettato il nostro invito Ciao e grazie a te per l'invito Gaetano io inizio dall'ultima uscita ufficiale nel turno della scorsa settimana la Waterpolo Palermo lotta in una partita che non è spettacolare ma certamente intensa ma deve però cedere 7-6 contro la Lazio come ha assorbito la squadra del K.O. contro i Capitolini? Allora, noi in settimana abbiamo rivisto molte volte questa partita perché comunque è stata una partita tirata fino all'ultimo è una partita terminata 7-6 ma è veramente combattuta fino all'ultimo mestante l'abbiamo rivista molte volte per guardare gli errori però abbiamo visto che nonostante gli errori comunque ci sono state tante cose buone e quindi l'allenatore ci ha fatto anche complimenti sotto certi aspetti comunque ci può essere considerato un punto di partenza per cercare di migliorare in vista delle prossime partite è una partita equilibrata che si è risolta con una sfortunata sconfitta di misura magari un pareggio sarebbe stato oro per la vostra situazione di classifica a tuo parere cos'è che è mancato alla squadra per uscire dalla vasca portando a casa almeno un risultato positivo e non con l'amaro in bocca degli zero punti sicuramente è mancato un po' di freddezza sotto porta perché non è stata una partita ricca di gol però siamo stati molto attenti in difesa tranne in alcune situazioni che ci sono postate caro ma comunque è stata una grande partita quindi la possiamo prendere come esempio anche perché le prestazioni buone sono comunque viatico di segnali positivi di una squadra viva di un gruppo che è sul pezzo ed è pronto a lottare fino all'ultima partita per cercare di conquistare quella salvezza che è il traguardo stagionale che la società ha fissato ti chiedo hai detto che avete rivisto diverse volte questo match in video per analizzare i vostri errori quali sono state le riflessioni che avete condiviso insieme a mister Paolo Malara? Le riflessioni fondamentali sono state quelle del cercare di lavorare più di squadra perché certe volte è mancato magari l'aiuto di un compagno o magari è mancato un po' di aiuto sempre oltre a questo abbiamo rivisto anche le azioni di attacco perché come dicevo prima c'è mancato un po' di freddezza perché i nostri attaccanti sono stati messi in difficoltà dal grande lavoro che ha fatto la Lazio e che ha praticamente bloccato le nostre vie di attacco principali dalle finali giovanili all'impatto con la massima serie ti alleni stabilmente con il gruppo della serie 2 condividi il ruolo con un altro giovane un po' più esperto di tema sempre giovane Gabriele Cuccia perché la società del presidente coglitore scommette sui giovani per un futuro stabile e duraturo ti chiedo quali sono le maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare in questo passaggio le maggiori difficoltà sono state sicuramente inizialmente è stato l'ambientarsi passare da una categoria inferiore quella l'anno scorso è stato l'under 16 passare in prima squadra nuovi compagni gente grande a cui non ero abituato a relazionarmi allenamenti sicuramente più intensi tutto un clima diverso però comunque è una cosa che viene da sé e piano piano col tempo ormai è diventata una cosa normale per me certo anche perché poi nelle categorie giovanili hai detto la tua nell'ultima final eight nazionale under 16 hai conquistato il premio di miglior portiere sì l'anno scorso insieme a con un grande lavoro di squadra siamo riusciti a conquistare il quarto posto sia io il primo miglior portiere che mio compagno di squadra Francesco Pettonati il primo miglior giocatore è stata una grande esperienza per noi ci ha formato tantissimo infatti anche questo mi permette di essere qui oggi in prima squadra e di allenarmi costantemente con loro e per allenarti costantemente con la prima squadra io so che tu ti sottoponi a sacrifici come altri tuoi compagni estenuanti perché tu militi nella Waterpolo Palermo ma lo facciamo scoprire al nostro pubblico non vivi a Palermo io vivo a Trapani che è una città vicino Palermo lista a circa 100 km sono due ore considerando sia andata che ritorno per andarsi a allenare quotidianamente questo perché a Trapani purtroppo la piscina è chiusa perché dopo il Covid sono mancati i fondi però insieme ad altri miei compagni siamo messi lì ogni giorno saliamo e ci alleniamo e poi scendiamo la sera tardi però lo facciamo volentieri Il prossimo turno vi propone la sfida casalinga contro la Barbato Desain Velancona formazione che dà il meglio di sé tra le Muramiche magari in trasferta cede qualche punto in più che tipo di partita ci aspettiamo? Ci aspettiamo sicuramente una partita tirata perché all'annata è stata anche così è finita con 14-11 in casa loro però comunque andando a guardare il refletto è stata sempre una partita punto a punto e quindi credo che comunque è passato tanto tempo da quella partita entrambe le squadre sono cresciute ma che essendo una squadra giovane miglioriamo giorno dopo giorno e credo che comunque questa sarà una partita molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'andata e che sicuramente ci potrà regalare più soddisfazioni Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta è una partita importante per voi conquistare punti vuol dire compiere magari qualche passo importante verso il vostro obiettivo stagionale per loro mantenere vive le residue possibilità di aggancio al quarto posto secondo te questo match dove si potrà decidere? Secondo me questo match si potrà decidere su quale delle due squadre arriverà più preparata perché entrambe le squadre hanno delle ottime individualità e entrambe le squadre giocano una bella palla a nuoto però ciò che farà la differenza secondo me sarà appunto chi avrà chi riuscirà a combattere fino all'ultimo fino all'ultimo secondo senza senza lasciarsi andare va bene siamo così al termine della nostra intervista ringrazio Gaetano Reina per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Gaetano grazie ciao 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 ciao